Bentornati su Spotlight Educational. Il lavoro di un operatore luci presenta alcuni rischi. Di questi, i maggiori sono quelli legati a quando non è presente in console, perché qualcuno può sempre metterci le mani, sconvolgere la programmazione, far perdere così ore di lavoro. Sarebbe molto utile poter bloccare sotto password la console per il periodo in cui ci si assenta, in modo tale che nessuno possa metterci le mani. Come si fa? Andiamo a prendere un caffè? Certo, un attimo che blocco la console. Entro in modalità Setup, voce Wall Station, Imposto una password e la blocco. Da questo momento, nessuna funzione è accessibile o risponde ai comandi. Posso solo accedervi sbloccandola, inserendo la password. Buon lavoro! Buon lavoro! Puerta azeit!